Eravate 35 e ora siete 36. Entra a far parte della vostra famiglia un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di 500 miglia da qui. È nato in una terra gloriosa, che ha dato all'Italia uomini illustri e le dà forti lavoratori e bravi soldati. Una delle più belle terre della nostra patria, con grandi foreste e grandi montagne. Vogliategli bene, per dimostrargli che un ragazzo italiano in qualsiasi scuola d'Italia trova dei fratelli. Chi è il primo della classe? È Ernesto De Rossi. Lo chiami affinché gli dia il benvenuto. Vieni. De Rossi, vieni qui. Come primo della classe, a nome dei tuoi compagni, dà l'abbraccio di benvenuto al nuovo compagno. L'abbraccio dei figliuoli del Piemonte al figlio della Calabria. Su, abbracciatevi. E dove vai tu? Fermo! Fermo! Eh sì, fermo! Fermo! Fermati, aspetta! Senti, lui non ti voleva fare del male, ti voleva solo abbracciare. Capisci cosa vuol dire abbracciare? Guarda, ti faccio vedere io un attimo con lui. Volevo mostrare al ragazzo. Visto? Beh, hai capito? Ci abbracciamo, vuoi? Non devi aver paura. Andiamo. Tutto a posto. Su, abbracciatevi. Ok. Grazie.